Giuseppe Rizzo potrebbe a breve tornare a Pescara. Tra i nomi di Marco Armellino del Monza e Carlo De Rizio del Bari, sbuca quello del centrocampista attualmente di proprietà della Triestina, con cui ha un contratto in scadenza a giugno 2022. Rizzo era arrivato a Pescara dalla regina nel genio 2013, quando la squadra era in Serie A, ed è rimasto anche in quella successiva, la 13-14, in Serie B, con le gestioni di Marino e Cosmi. Nell'estate successiva la regina riscattò il centrocampista, che era in comproprietà, e Rizzo lasciò Pescara. Giocatore muscolare, di quantità, che dà il meglio in fase di interdizione. Il suo arrivo risponde all'esigenza di dare ulteriore peso specifico al centrocampo, almeno nelle indicazioni del tecnico Auteri, anche perché Armellino, che è nei radar del Delfino da tante settimane, è vicinissimo al Modena, che dunque sta piazzando un altro importante innesto in una rosa già altamente competitiva. L'arrivo di Rizzo potrebbe far supporre, a breve, una uscita di Massimiliano Busellato, oramai un separato in casa, al pari di Galano. Sui due, questa la presa di posizione del presidente Daniele Sebastiani. In Serie C credo che non ci sono andato solamente io, anzi, loro sono stati tra i fautori di questa annata disgraziata, quindi credo che dovrebbero anche passarsi una mano sulla coscienza anche loro. Detto questo, se dovessero arrivare richieste che ad oggi non ci sono, sicuramente non tratteniamo nessuno per la forza o per la maglia, però al momento credo che il compito principale dei calciatori che sono pagati e sotto contratto debba essere quello di essere professionisti. E quindi sono i giocatori del Pescara e devono dare il massimo per il Pescara. Io pure vorrei avere tante cose belle o tante cose di più di quelle che ho, ma comunque ognuno di noi ha dei limiti. Se non ci sono richieste, evidentemente non sono così poi i giocatori così importanti. Intanto si avvicina il debutto ufficiale. Dopo domani sera alle 20.45, match di Coppa all'Adriatico Cornacchia contro l'Olbia. Il tecnico Gaetano Auteri conta di recuperare qualcuno degli assenti nell'amichevole col Napoli. Saranno importanti gli allenamenti di oggi e domani per capire se ci saranno. Auteri non vuole neanche correre inutili rischi perché tra poco più di dieci giorni sarà campionato e per il 29 agosto la Rosa dovrà essere il più possibile al completo per puntare dritto ai tre punti. I tifosi potranno tornare allo stadio con una disponibilità di biglietti per il 50% della capienza. Vendita aperta da questo pomeriggio alle 15.30 sul web e nei punti Viva Ticket con prezzi che vanno dai 10 euro della Curva Nord, la Sud sarà chiusa, ai 35 della Tribuna Maiella. Ingresso consentito solo a previa esibizione di Green Pass. Senza certificato verde non solo non sarà possibile entrare, ma non è previsto il rimborso del biglietto. La società stamani ha poi comunicato che i possessori di Voucher Ticket One possono riscattare il proprio credito presso lo storio di Via Carducci con il materiale lì presente a causa dell'impossibilità di approntare la campagna abbonamenti per il Covid e del cambio dell'azienda partner del ticketing.